Riavere lo scudetto Venezia a distanza di 74 anni ha illuminato la città che insieme ai tifosi più agguerriti sempre con l'oro granata anche fuori casa ha festeggiato tutta la notte. Una notte di festeggiamento in città in campo con l'immagine indimenticabile di Filoi che si è seduto sul ferro e ha tagliato la rete e negli spogliatoi dove la squadra ha festeggiato. All'indomani è ancora difficile realizzare il traguardo raggiunto. Un'emozione fantastica, secondo me personalmente proprio io non mi rendo ancora conto ma credo che gran parte delle persone qui non si rendano ancora conto. Credo che metabolizzeremo col tempo un attimo quello che siamo riusciti a compiere in quest'anno. Un'impresa che resterà nella storia e che porta il capitano a raggiungere quota 8 scudetti. È stata un'emozione incredibile per tutta la società, per tutta la città di Venezia. Devo dire che da tre anni a questa parte che sono qua io le cose sono cambiate, siamo riusciti a fare un gruppo molto solido e questo è il giusto premio per tutti i sacrifici che hanno fatto tutte le persone che lavorano qui.